Emergenza coronavirus, 21 i casi in Sicilia, molte le restrizioni dopo il decreto del governo, confermate le sante messe nelle aree non rosse, sospese attività di catechesi e di oratorio fino al 3 aprile, così come le processioni. Attraverso un avviso pubblico, attenendosi al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comune di Paternò ha diffuso le disposizioni igienico-sanitarie di prevenzione in relazione all'emergenza coronavirus. A Paternò e nei comuni del comprensorio sono stati sospesi tutti gli incontri culturali. A Paternò salta il cartellone di eventi di marzo. Due squadre di vigili del fuoco di Catania derubati di attrezzature mentre svolgevano un intervento a Mister Bianco. Ad Adrano la polizia ha denunciato un 44enne del luogo per furto di energia elettrica. L'uomo ha collegato l'impianto del suo appartamento direttamente alla rete elettrica pubblica. Turnover all'interno della giunta guidata dal sindaco Daniele Motta a Belpasso. Lasciano Graziella Manitta e Salvo Pappalardo. Al loro posto entrano i consiglieri Moreno Pecurino e Andrea Magri. Buonasera ai telespettatori di Chuck News e bentrovati per questo nostro nuovo appuntamento con l'informazione che apriamo ovviamente con una notizia relativa al coronavirus. Emergenza in Sicilia, 21 casi, molte le restrizioni dopo il decreto del governo. Confermate le sante messe nelle aree non rosse, sospese attività di catechesi e di oratorio fino al 3 aprile, così come sospese saranno le processioni. Vediamo il servizio. Coronavirus in Sicilia, i casi salgono a 21. Questo l'ultimo dato ufficiale sui contagi da Covid-19 della regione siciliana. 6 persone risultano ricoverate tra Catania e Palermo, 15 invece sono in isolamento domiciliare. Nell'ultimo bollettino la regione comunica che i tamponi effettuati sono stati 440, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati. Dunque, rispetto a ieri, ci sono tre casi in più, ma è bene dire che in Sicilia non c'è un focolaio. Intanto, gli effetti del coronavirus si ripercuotono anche nel contesto sociale dopo il decreto governativo sulle misure antivirus. A livello sportivo, rinviate a data da destinarsi tutte le partite dei campionati regionali di basket, senior e junior, ripercussioni anche nel mondo del calcio dilettantistico. Questa settimana non scenderà in campo la Serie D e nemmeno gli altri campionati dilettantistici regionali. Effetti Covid-19 anche nelle manifestazioni culturali e teatrali che prevede un assembramento di persone, pressoché tutte cancellate, così come disposto dal decreto del governo. Ad Adrano, rinviato a data da destinarsi, anche il Consiglio Comunale in programma inizialmente per giovedì 12 marzo. Per quanto riguarda le manifestazioni di culto, la Conferenza Episcopale Italiana ha comunicato in dato odierna che nelle aree non a rischio, cioè nelle aree non rosse, assicurando il rispetto delle indicazioni di prevenzione in tutte le attività pastorali e formative, la CEI ribadisce la possibilità di celebrare la Santa Messa, così come promuovere gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima. E intanto c'è anche il comunicato dell'Arcidiocesi di Catania sull'emergenza coronavirus dopo il decreto del governo. Sono confermate le messe feriali e festive, gli altri sacramenti e gli abituali esercizi del tempo di Quaresima. Gli incontri di catechesi e le attività oratoriali sono sospesi fino al 3 aprile, così come le processioni e le attività associative e formative che prevedono un'elevata presenza di partecipanti. Inoltre la comunione agli anziani e agli ammalati si potrà portare se esplicitamente chiesta, adottando però tutte le misure igienico-sanitarie. E restiamo in argomento. Attraverso un avviso pubblico, attenendosi al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Paternò ha diffuso le disposizioni igienico-sanitarie di prevenzione in relazione all'attuale emergenza coronavirus. Sentiamo l'intervista di Sara Cavallaro. Attraverso un avviso pubblico saranno rese note quelle che sono le disposizioni adottate dal Comune di Paternò per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Andando a rassicuro tutta la cittadinanza e i nostri concittadini che non c'è nessun caso di coronavirus a Paternò. Questo per tranquillizzare tutti perché si sono susseguite delle notizie errate. Stiamo monitorando tutto. Siamo in contatto costante con il nostro presidio ospedaliero. Anzi, abbiamo avuto una riunione avanti ieri. C'era la rappresentanza dell'ospedale. C'erano anche le associazioni. Presente un'associazione di protezione civile, anche qualcuno del Comitato in difesa dell'ospedale. Abbiamo stabilito, ho fatto già una richiesta alla protezione civile, di installare una tenda pre-triage al pronto soccorso per evitare che se arriva qualcuno magari con sintomi febbrili non passi dal pronto soccorso ma si fermi alla tenda che sarà attrezzata di tutto. Sto mettendo in tutta la città e quindi stiamo dando la massima notizia per gli accorgimenti che sono arrivati dal decreto per come comportarsi a livello igienico per quel che riguarda il coronavirus. Stiamo attrezzando tutti i nostri uffici e anche tutti i locali pubblici di nostra competenza per quel che riguarda l'igiene, quindi con dei dispenser, con delle soluzioni interne per disinfettanti. Abbiamo, secondo il decreto, sospeso le attività sia nel nostro centro anziani sia nella zona Ardezzone che di Casa Coniglio, anche nel centro disabili perché proprio il decreto dice dove ci sono persone che sono a rischio è giusto evitare le attività, anche il nostro centro minore visto che le scuole sono chiuse, per quel che riguarda le attività sportive gli allenamenti continueranno e saranno però a porte chiuse. Per quel che riguarda invece le attività agoniste, quindi le partite da disputare, le federazioni decideranno in base allo sport se sospendere i campionati, se fare disputare le partite a porte chiuse. Abbiamo sospeso tutte le manifestazioni e tutti gli eventi, è un momento di monitoraggio, è un momento dove tutti quanti ci dobbiamo venire in conto e stare attenti. Però non ci facciamo prendere dai facili allarmismi che non servono. Servono questi accorgimenti, stiamo ragionando a 360 gradi per evitare tutto ciò. Per quello che riguarda le realtà sociali di Paternò, quali sono le disposizioni? Poi in particolare dobbiamo dire per quel che riguarda la bisaccia del Pellegrino, dove lì vanno famiglie che hanno veramente bisogno e vanno a cenare la sera. Per non interrompere il servizio ci sarà un servizio di asporto, quindi continuerà l'attività, però le famiglie si regheranno alla bisaccia del Pellegrino, gli sarà consegnato il cibo da asporto, non si fermeranno a cenare lì. Speriamo che questo momento si concluda il prima possibile, capiamo le difficoltà e le criticità che ci sono, se ci sono delle difficoltà l'amministrazione è pronta, è pronta a dare le risposte, ci sono i numeri che ha indicato anche il Ministero, non facciamoci prendere dal panico. Ripeto, fino adesso a Paternò non c'è nessun caso di coronavirus. E a Paternò e nei comuni del comprensorio sono stati sospesi tutti gli incontri culturali. A Paternò salta anche il cartellone degli eventi di marzo, vediamo. Le disposizioni del Governo nazionale rispetto all'emergenza sulla coronavirus hanno inevitabili contraccolpi anche sul territorio etneo, non riferiti esclusivamente alla chiusura delle scuole. A Paternò cancellati tutti gli incontri, compresi gli appuntamenti inseriti nel calendario degli eventi di marzo, con le associazioni che non hanno potuto far altro che accogliere le disposizioni imposte dall'Aggiunta Municipale. E sempre a Paternò il sindaco Nino Naso da questa mattina è al lavoro per prendere ulteriori provvedimenti rispetto ad altre attività sociali nella Comune. È stato deciso che per la mensa sociale, la bisaccia del pellegrino, i volontari continueranno a fornire i pasti ai bisognosi, ma la cena non verrà più consumata sul posto, ma si prepareranno pasti da asporto. Per le attività sportive, gli impianti al momento dovrebbero rimanere aperti, ma sia gli allenamenti che le partite verranno svolti a porte chiuse. Lo stesso dovrebbe valere per la piscina comunale, ma si stanno attendendo le decisioni delle diverse federazioni per capire come comportarsi. Dunque, per lo sport, la decisione ultima è attesa per le prossime ore. Quasi certamente verranno invece chiusi, sempre a Paternò, i centri per i minori, mentre dovrebbero restare aperti, solo per la normale attività di routine, i centri per anziani e disabili. Intanto è stato stabilito come anche Paternò avrà la sua tenda pre-triage per garantire controlli in tema sanitario anti-coronavirus. L'iter burocratico per la sua installazione davanti all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò è stato completato. Ora si attende solo che il Dipartimento regionale della Protezione Civile dia il via libera autorizzando l'APAS all'installazione. La tenda, come detto, verrà estellata all'esterno dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò e avrà il compito di fare da filtro per i casi di influenza che possono far assorgere il sospetto di un possibile contagio di coronavirus. Intanto i sindaci del comprensorio chiedono di non far scattare allarmi immotivati come è accaduto ieri a Paternò con la diffusione della falsa notizia di un caso di coronavirus in ospedale. In realtà si è trattato di un caso di broncopolmonite cronica. False anche le voci che girano a Paternò su sospetti casi in quarantena. In realtà si tratta di persone rientrate dal nord Italia che non hanno sintomi e non sono infette. Per quanto riguarda i casi di falso allarme scattati a Paternò, ieri è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica di Catania con un'indagine avviata dalle forze dell'ordine rispetto soprattutto ad alcuni messaggi audio WhatsApp. Cambiamo argomento. Due squadre di vigili del fuoco di Catania derubati di attrezzature mentre svolgevano un intervento a Mister Bianco. Incredibile ma vero, due squadre dei vigili del fuoco di Catania impegnate in due diversi interventi in zona Cimitero e Mister Bianco hanno subito mentre spletavano un intervento di spegnimento di un incendio e il furto di svariate attrezzature, tra cui motosega, moto troncatrice, cassetta attrezzi, radio per comunicare le lampade. Un gesto che ha mandato su tutte le furie il coordinatore regionale dell'Unione Sindacati di Base Carmelo Barbagallo. Rimaniamo allibiti di tale gesto, dice Barbagallo. Fortunatamente la percentuale di chi sfregia un angelo dell'agenda e di tal gesto si può contare nelle dita di una mano. Le difficoltà per noi vigili del fuoco sono enormi, non ultima l'emergenza coronavirus. Se siamo costretti a fermarci, chi deve soccorrere i soccorritori? Spesso anche un solo minuto può salvare la vita, conclude Barbagallo. Riflettiamoci tutti. E adesso una pausa pubblicitaria, noi torniamo subito dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto, scegli Energreen Power. Da Energreen Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kilowatt chiave in mano a 3.000 euro più IVA 10%, per un totale chiave in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kilowatt, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta, proponendo in alternativa un impianto da 6 kilowatt a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro, per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Ben rientrati in studio, ci spostiamo a Belpasso, dove è avvenuto un turnover all'interno della giunta guidata dal sindaco Daniele Motta. Lasciano Graziella Manitta e Salvo Pappalardo. Al loro posto entrano i consiglieri Moreno Pecorino e Andrea Magri. Vediamo. Cambio in giunta all'interno dell'amministrazione comunale di Belpasso. Lasciano l'incarico gli assessori Graziella Manitta e Salvo Pappalardo con il loro posto che verrà preso da Moreno Pecorino, Meli e Andrea Magri, entrambi consiglieri comunali. Un normale turnover all'interno del gruppo diventerà bellissima con gli assessori Manitta e Pappalardo che ieri mattina hanno rassegnato le dimissioni. Ed il sindaco di Belpasso Daniele Motta, nel darne comunicazione sulla sua pagina Facebook, scrive «Ho ricevuto le dimissioni degli assessori Salvo Pappalardo e Graziella Manitta, ovviamente concordate nella normale alternanza amministrativa. Oggi devo dire il mio immenso grazie a queste due persone che per 20 mesi mi hanno supportato nelle deleghe a loro affidate. Con Salvo, continua il sindaco Motta, abbiamo affrontato il problema dell'ecologia facendo arrivare Belpasso a percentuali di differenziata mai raggiunte prima, lottando contro gli incivili e promuovendo tantissime iniziative di sensibilizzazione. Inoltre, continua ancora il sindaco Motta, si è occupato di tanti eventi e dell'Enon Festival che nel 2019 è tornato a Belpasso con una bellissima edizione. Con Graziella, afferma ancora il primo cittadino belpassese, abbiamo affrontato tantissime problematiche relative al delicato mondo della scuola. Lei è stata all'interfaccia paziente e costante con mamme, maestre e dirigenti scolastici. Ha iniziato a mettere ordine nel mercato del venerdì e nell'organizzazione della Sagra del Figo d'India. Oggi voglio dire grazie, conclude il sindaco Motta, a due amministratori, ma soprattutto a due amici con la certezza che il nostro cammino insieme non finisce qui. E per oggi pomeriggio è previsto a Belpasso il giuramento dei due nuovi assessori. In giunta, come detto, entreranno i consiglieri comunali Moreno Pecorino Meli e Andrea Magri. E adesso ci spostiamo ad Adrano dove la polizia ha denunciato un 44enne del luogo per furto di energia elettrica. L'uomo ha collegato l'impianto del suo appartamento direttamente alla rete elettrica pubblica. Vediamo. Nell'ambito delle attività di prevenzione disposte dal commissariato di polizia di Adrano finalizzate a contrastare casi di illegalità diffusa, agenti della polizia hanno denunciato un 44enne del luogo per furto di energia elettrica. Un fenomeno piuttosto diffuso nel nostro comprensorio. Nel caso specifico, i poliziotti, dopo un'accurata attività di indagine, hanno scoperto che l'uomo riforniva la sua abitazione di energia elettrica in maniera illecita ai danni dell'azienda elettrica. In particolare, il 44enne ha messo in atto un sistema illegale attraverso il quale ha collegato l'impianto elettrico del suo appartamento direttamente alla rete pubblica della società fornitrice, deviando così l'energia elettrica dal proprio contatore che era dismesso e sigillato. Accertato lo Stata Gemma per l'acquisizione di energia elettrica ai danni dell'azienda fornitrice, è scattata la denuncia per l'uomo con l'accusa di furto, mentre tutto il materiale elettrico illecitamente utilizzato è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito della stessa attività, gli agenti del commissariato ad Anita hanno anche sequestrato l'automezzo utilizzato dal 44enne in quanto il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. E questa sera, dopo l'edizione del Tg dell'E21, andrà in onda una nuova puntata del fatto, il programma di approfondimento giornalistico di Ciac Telesud. Ospite di questa sera l'interprete siciliana Eleonora Bordonaro, artista paternese dalla forte carica emotiva che riprende nella sua arte canti popolari della tradizione siciliana, rivisitati e rielaborati dalla eclettica e multiforme sensibilità femminile della cantautrice, di cui da domani, 6 marzo, è in uscita il secondo album dal titolo Movi ti ferma. E ancora un'ultima notizia, sempre questa sera andrà in onda una puntata sull'oliva nocellara dell'Etna. In studio l'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera, il deputato regionale Giuseppe Zitelli, l'agronomo Spina e per il comitato nocellara dell'Etna, Pippo Cosentino, a condurre sarà Mary Sottile. Questo è tutto per oggi, grazie per l'ascolto, l'appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.